Ciao ragazzi, oggi sono qui con un nuovo video e in questo video, visto che manca poco a Natale cioè oggi sono tre giorni che mancano, sono emozionata e visto che manca poco a Natale, ho deciso di parlare dei quattro principali tipi di regali a Natale il primo tipo di regalo è quello che desideravi da tutto l'anno, perché l'hai chiesto tutto l'anno a tutte le persone si è messo a stressare, mi disturbavi anche mentre facevano i compiti in tutti i momenti, appena lo vedevi facevi foto, le mandavi sul gruppo e alla fine arriva quella persona che è benedetto, Dio davvero benedetto è riuscita a portartele, quindi tu in quel momento sei euforica, sei felicissima perché hai davvero il regalo che adori grazie il secondo tipo di regalo è quello che non ti piace, anzi ti disgusta e la tua faccia è tra un mi disgusta e un finto sorriso e la tua faccia è tipo grazie, non dovevi vuol dire anche con questa voce tipo grazie ma davvero non dovevi, perché a me fa schifo quella cosa e non so perché me l'hai regalato, visto che se mi conosci sai che quelle cose le odio il terzo tipo di regalo sono i soldi che di solito ti regalano le persone più anziane o i parenti questo tipo di regalo non è mai sbagliato perché comunque con questi soldi puoi fare quello che vuoi e quindi è un buon regalo il quarto tipo di regali sono quelli chiusi talmente bene che non riesci ad aprire allora ti dannila perché la carta ti piace e quindi non la vuoi strappare ma dopo tutti i tentativi per non strapparla la devi strappare lo stesso la cosa brutta è che a volte c'è anche lo scontrino su quella carta e per strappare la carta strappi anche lo scontrino il bene è che se il regalo poi non ti piace te lo devi tenere per forza perché ormai non la puoi più cambiare visto che hai rotto lo scontrino se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un pollice in su di commentare qua sotto con i vostri regali di Natale di iscrivervi al canale di attivare la campanellina e vi ricordo che se entro Natale mancano 8 giorni riusciamo ad arrivare a 100 iscritti ci sarà il video speciale un bacione e un saluto ciao belli